La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 11 persone accusate a vario titolo di corruzione negli appalti per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, presso scuole e istituti per anziani e di pulizia presso gli uffici pubblici. Ricostruito un complesso sistema corruttivo attraverso il quale in un anno sono stati assegnati con modalità illecite, 11 contratti di fornitura per 39 milioni di euro. Le assegnazioni avvenivano da parte di diversi enti locali lombardi a favore delle imprese alle quali erano direttamente collegati o di altre disposte a pagare una tangente compresa fra l'1 e il 2% del prezzo posto a base d'assa della gara. Grazie